Le biotecnologie olistiche non sono come i farmaci, non vogliono creare dipendenza, ma vogliono dare le informazioni necessarie alla persona per prendere consapevolezza dei propri problemi e poi risolvere con la mente. Questo è l'obiettivo principale di quello che noi facciamo, mi raccomando. Dopo questa piccola prefazione posso spiegarti le biotecnologie olistiche. Se hai qualsiasi problema a livello metabolico, quindi se è una persona che fa fatica a gonfiarsi, se è una persona che ha anche attacchi di fame improvvisa, cioè ha problemi di metabolismo lento o veloce, questi servono per l'equilibrio. Infatti, come dicevo prima, Guido Porcellini, che è il più grande medico sportivo della storia, che è nutrizionista, li usa spesso abbinati con i suoi pazienti per il discorso alimentare.